insomma via, anche stasera, stasera seratone vedete che ora è un po' che si è preso questo vizio questo viziaccio ad andare a mangiare sulla spiaggia di sera perché poi ci sta di lusso che il giorno fuori c'è 40 gradi cioè fuori, insomma, a tutte le parti, anche in casa e di sera si va su questa spiaggina che è quella del video precedente che la sera si trasforma e diventa tipo un angolo di paradiso vero con Paola De Perno? stasera faremo una cosa di diverso abbiamo portato tutto il necessario abbiamo portato tutto il necessario per fare i panini direttamente sulla spiaggia sarà molto divertente perché ho il tonno a mozzarella acquetta da mozzarella, l'olio del tonno che poi le fa panini sulla spiaggia cioè non è una cosa, una novità ce lo fanno tutti, sembra il sacco no, io non li ho ancora fatti ieri ho portato giù Kiro, ieri sera e questa è una cosa che uno dice cosa c'entra con i panini? c'entra perché dice la prima volta no, non è la prima volta perché mi era già successo tipo altre due volte ieri sera dopo che Kiro ha fatto i suoi bisogni per strada l'ho raccattata giustamente perché siamo insomma in una società civile quindi la merda va raccattata quindi tipo raccattandola con la bustina a un certo punto ho sentito il dito anulare destro caldissimo non c'avevo un prato ha fatto la scarpetta a un dito e c'avevo la merda sul dito a un certo punto ho sentito bene, è arrivato lì a posto cosa ha visto? l'imbozzolatura di un ragno l'imbozzolatura di un ragno? sì, guarda, ha imbozzolato tutta l'animale è incredibile si ha fatto il fagottino per mangiare cos'è la natura? capisci? anche i ragni mangiano è come anche i ricchi piangono ecco perché non si ride sempre vedi, ci sarà l'ina? vedi no, non ti è bello no, non ti è bello apriete Sommiamo a questi fanini ma che cazzo